Briga è una specie di furetto su Omni, si chiamano Eureke, quegli animaletti come lei, lei aveva fatto la prima comparsa nelle storie di Omni nei racconti collezionista, poi l'editore Gianni Lacorte si è talmente affezionato a questo animaletto che mi ha chiesto di inserirlo tra i personaggi e io l'ho trovata un'idea interessante perché il terzo libro, Giori delle Tenebre, ha un'atmosfera molto cupa e quindi c'era questa nota frizzante di questo animaletto che ha questa parlata molto stranata e poi è costantemente entusiasta che dà questa nota divertente anche se immersa comunque in un contesto cupo. Grazie